Nello studio realizzato dal professor Grosso del Politecnico di Milano, tra le tante slide correva un po' un leitmotiv che è quello dei sistemi di visione, una tecnologia che sembra aver conquistato i costruttori di macchine e sistemi per l'imballaggio. A questo tema dedicherete uno specifico evento il prossimo anno? Sì, quello dei sistemi di visione è una tecnologia che tra quelle cosiddette abilitanti all'interno del mondo del passaggio al 4.0 è certamente una delle più interessanti. Noi assieme ad AIDAM, abbiamo quindi Ania Automazione e AIDAM, hanno deciso, avendo valutato che all'interno delle proprie strutture già esistono dei gruppi che raccolgono aziende che si occupano in maniera diversa, loro più sulla distribuzione e i sistemi integrator, noi più che altro per la parte di produzione e di sistemi di visione, abbiamo deciso di mettere insieme le forze e sviluppare un progetto che ha l'ambizione nel 2019 di organizzare questo forum che sarà poi alla fine un grosso convegno dove vorremmo parlare dei sistemi di visione come tecnologie consolidate, già utilizzate da tanti anni nel mondo del manifatturiero ma che hanno in questo momento uno sviluppo legato anche ad altri concetti più innovativi come l'intelligenza artificiale e in particolare machine learning, deep learning che portano i sistemi di visione anche al di fuori dello stretto ambito della produzione industriale ma arrivano fino ad ambiti più consumer come l'automotive oppure a settori molto importanti come il medicale, il biomedicale con applicazioni nuove appunto legate a questa capacità di apprendere in maniera intelligente di queste macchine che possono dare poi dei dati e delle informazioni che possono essere utilizzate per dare valore aggiunto all'attività che si stanno facendo. Vogliamo dare l'appuntamento allora e il? L'evento si terrà a Bologna nel giugno del 2019. L'evento si terrà a 9.